Era presente anche Ispra come era giusto che fosse, quello che abbiamo richiesto noi è l'attuazione di questo piano sperimentale sulla quale poi il Ministro Cingolani già si era espresso nelle scorse settimane per la gestione del lupo in Trentino, ma soprattutto oggi abbiamo sentito parlare i rappresentanti istituzionali della sicurezza, locali, che anche loro hanno posto un problema di sicurezza pubblica e quindi il tema comincia a diventare noi diciamo corretto perché si tratta di un problema di sicurezza pubblica, quindi adesso queste riflessioni fatte all'interno del Comitato per l'ordine pubblico della sicurezza sicuramente in qualche modo serviranno anche per le azioni future che prenderemo con il Ministero per l'attuazione di questo piano di gestione sperimentale sulla gestione del lupo in Trentino ed anche di fronte ad eventuali altri casi che dovessero accadere in futuro. L'immediato il corpo forestale sicuramente continua con il monitoraggio e la gestione, è chiaro che se dovessero verificare ulteriori casi come quello accaduto qualche giorno fa, noi crediamo si debba a questo punto intervenire.